Cambia il volto delle prove per accedere a medicina. Tra le novità più rilevanti la possibilità per gli studenti di poter tentare il quiz già a partire dal penultimo anno delle scuole superiori. Ma non sarà l'unica novità, si potrà infatti provare il test per ben due volte in un solo anno durante due finestre prestabilite dal ministero per un massimo di quattro prove tra il quarto e il quinto superiore. Dal prossimo anno accademico il test si svolgerà in presenza nelle università ma attraverso il pc. Il contenuto della prova sarà simile ma ci sarà un tempo di svolgimento ben preciso per le singole aree.